cerchio firenze 77 la voce dell'ignoto il nucleo dell'essere è quella coscienza che si riassume contiene il succo delle molteplici incarnazioni e che si manifesta quanto meno come fortezza determinazione volontà nell'assolvere il proprio dovere ma che per gradi arriva all'espressione massima del sacrificio di sé a favore di altri il sacrificio di sé non è quindi un io che capitola a favore del super io inteso come moralità postice acquisita dall'educazione bensì coscienza raggiunta parte del proprio essere intima natura grazie a tutti